È venerdì sera, una volta andavo in discoteca, oggi bramo solo il divano con un film e un bel piatto classico da serata a cinema da condividere con Zoe, la quale tra l'altro stasera ha chiesto la proiezione di Frozen. Zoe è in camera da letto che gioca con i suoi pupazzetti amati, io devo pensare alla cena però. Fatemi accendere subito il forno perché questa sera ho trovato un pesce di lago e un salmerino in questo caso con un contorno di patate e carote. È una sorta di mio fish and chips con quello che c'è in casa, quindi pelo le patate che sono state precedentemente ben lavate e mantengo le bucce per altre ricette. Quindi, classica patata. Passo le carote. La praticità e l'ingegno ti insegna anche a ideare piatti, non solo con quello che c'è in casa ma anche con cotture che più ti aggradano. Quindi nel momento in cui cuoce una cosa pensi all'altra e poi metti tutto insieme e servi alla velocità della luce. Visto che è così semplice, insaporisco un po' le mie verdure, per cui parto dall'aglio, poi aggiungo un'altra cosa che non manca mai in cucina, la scorza di limone. Sono limoni non trattati, chiaramente una lavata, magari con un po' di bicarbonato fa sempre bene, sotto acqua. Invece di aggiungere il sale in questa preparazione io uso spesso i capperi sotto sale, che dissalo ma molto brevemente, così rimangono ancora belli sapidi. Altro must della mia cucina, erbe aromatiche. Sgoccio d'olio. Non metto pepe perché lo userò poi per il pesce e poi mia figlia non lo gradisce molto, è piccolina, quindi col pepe sto attenta, anche se a me piace molto. E sono pronta per andare in forno. Parto dalle verdure perché vogliono almeno 10 minuti, un quarto d'ora in più di cottura rispetto al pesce. Mentre le verdure cuociono penso al pesce. In questo caso vi ho detto, ho preso del salmerino, lo voglio fare marinato allo yogurt, per cui yogurt bianco. L'aglio non manca mai, anche perché con lo yogurt sta benissimo. Si può lasciare a dadini, così poi in un secondo momento si può togliere. Io invece lo vado a rendere a crema. Proseguo con un po' di verde, per cui se c'è dell'aneto benissimo. Io non l'avevo in casa, ho del prezzemolo. Aggiungo dello scalogno. Aggiungo poco poco pepe, mescoliamo, salo ed è arrivato il momento di mettere il pesce nella marinatura. Io, come dicevo, ho del salmerino. L'ho già fatto tagliare a trancetti, quindi sfilettato e tagliato a trancetti. In base alla polpa e alla consistenza della carne e del pesce che si usa, si può tagliare o meno a cubetti. Quindi, se si usa un salmone o un merluzzo, si può tagliare a cubetti un po' grossi. Ecco, salmone e merluzzo, magari anche no, o meglio, lasciamo stare quei pesci che non sono nostri, quindi che non sono dei nostri laghi e non sono dei mari che abbiamo più vicini. Quindi, se non vogliamo pesce di lago, che comunque è local e anche lui ha una stagionalità comunque, scegliamo il pesce, sempre secondo di stagione, di mare del vicino adriatico o mediterraneo. Mettiamo a marinare il pesce. Adesso lo copro e lo lascio riposare in frigo, giusto il tempo di continuare con la ricetta. Se volete lasciarlo di più, ben venga. Allora, il pesce riposa un attimino, giusto il tempo di pensare alla sua panatura. Quindi metto il pane secco, grissini, fette biscottate, anche cose del genere, non solo pane che avete comprato secco e che vi è rimasto in casa, anche proprio cose da credenza. Un po' di paprika. Aggiungo un po' di farina di polenta. La panatura è pronta. Quindi ho preso il pesce marinato dal frigorifero. Ecco qua. Adesso non basta che finire con un filo d'olio e andiamo in cottura. Metto tutto in forno così continuo la cottura, anche la verdura, e vado a vedere Zoe perché bisogna vedere a che punto sta con i giochi in camera. Il mio fish and chips al forno si prepara con 400 g di pesce di lago, 250 g di yogurt bianco, aneto, 1 scalogno tritato, 100 g di pane grattugiato, 40 g di farina di mais, paprika dolce, olio extravergine di oliva o di semi, 4 patate, 4 carote, 2 spicchi di aglio, scorza di limone non trattato, olio extravergine di oliva, erbe aromatiche. Ci siamo! Finisco con un po' di sale. Ah, dimenticavo. Se una volta tagliate le patate, si mettono un pochino nell'acqua, queste perdono l'amido e in cottura... sono molto più croccanti. Tutte croccanti. No!